Ah, dottor Crane, io non ce la faccio più, sto male, le pareti mi si stringono intorno, bla bla bla. Se mangio qui altri due giorni, impazzisco sul serio. Che cosa vuole? Voglio sapere come farà a convincermi a tenere la bocca chiusa. E a che proposito? Lei non sa niente. So che non vuole che la polizia analizzi la droga che hanno sequestrato. E so dei suoi esperimenti con i pazienti del suo manicomio. Non mi metto mai in affari con qualcuno di cui non conosco i peccatucci. Quante sue scagnozzi uso io i muscoli in questa città. Ora, sono mesi che contrabbando la sua roba. Quindi, quale che sia il progetto, è grosso e ci voglio entrare. Beh, so già quello che lui dirà, che bisognerà ucciderla. Lui qui dentro non può arrivare, è la mia città. Vuole vedere la mia maschera? La uso nei miei esperimenti. Probabilmente non metterà paura a uno come lei. I matti invece ti terrorizza. Ma quando è che i matti dirigono il manicomio? Curano e piangono come fanno di adesso. Non finge, non sarebbe così bravo. Chiederò al giudice il suo trasferimento nell'ala di massima sicurezza di Arkham. Quando posso aiutarlo?